ciao ragazzi mi è venuto in un nuovo video scusate se ieri non avevo portato il video ma era il mio compleanno e quindi ho voluto tenermi la giornata per me oggi vi parlerò di due offerte poste mobile una riguardante un router portatile con incluso una sim con giga e un pack in internet pack chiamiamolo così per fino a sei mesi dopo di che il router rimane a posto questa è la prima poi la seconda è poste mobile a casa andremo a vedere le varie offerte che hanno nel catalogo quindi sarà una all in one possiamo dire questa recensione cercherò di non farla durare tanto che prometto come solito io parlo poi mi dilungo e a finire il video dura tantissimo comunque tra due secondi non mi vedrete più sentirete sempre mia voce come al solito e andremo a vedere insieme l'offerta ciao ragazzi eccoci qua allora questa è la prima e andremo ad osservare insieme è da un po che c'è ok non è che sia un'offerta nuova appena uscita però diciamo volevo portare un video un po diverso dal solito e quindi sempre ovviamente inerente tecnologia quindi può essere interessante ora andiamo a vedere il perché allora giga pack la nostra connessione mobile piena di giga da condividere allora 50 giga in 4g e al mese per i primi sei mesi 100 euro 99 che la settimana mese dice ero non avete nessun vincolo quindi io ovviamente quello che vi consiglio se lo comprate compratelo usufruite di questi sei mesi e poi ovviamente 10 euro mese 50 giga no assolutamente no la mettete un'altra sim quindi è sblocato che non è che abbia vincoli e class comode ma il catello vedete qui sotto vedete un pochettino allora moda wifi 4g ltt e così piccola compatta leggera che può essere portata in tasca in borsa nello zaino per navigare in inter e la casca saponito che per collegare temporaneamente fino a 15 dispositivi vabbè non è vero in realtà è però perché sappiate che più persone si collegano più la connessione raggiù io vorrei proprio vedere 15 dispositivi la connessione come diventa allora secondo me per avere una connessione accettabile se avete una buona zona che prende bene un 45 dispositivi massimo ok non vi consiglio di più dopo che dopo iniziare male guardate se avete voi preferite ascoltare musica che vuoi divertiti online parla per chi non lo sapesse facciamo la piccola descrizione che di cos'è questo poi fa i 4g è un router portatile ha una batteria interna che voi mettete la sim e al suo interno non avete nessun tipo di vincolo che l'ho comprato con poste mobile ma potete tranquillamente successivamente comprare una sim che ne so vodafone per esempio mettere all'interno configurare l'apn basta guardare su internet e usarlo con vodafone cioè non è che è bloccato solo con poste mobile quindi se non usate poste mobile la buttate via non è così io ho router mio e dell'uoway non ho preso con poste l'ho preso su amazon usato come nuovo è quello che vedete nella recensione se andate a cercare e perché ho voluto portare questo video perché penso che adesso ci stiamo avvicinando a quelle belle stagioni no? si lo so che è un router grosso modo portatile con 40 50 euro ce l'hai è vero però qui uno dice mi compro router ho sei mesi c'è il mio internet mi basta giusto? ok dopo sei mesi cambio sim perché ripeto 10 euro al mese 50 giga anche no ok c'è tanto tanto di meglio a 10 euro al mese vi danno 100 giga quindi anche se dovessero bastarvi non ve lo consiglio di rinnovarlo fatevi un'altra sim poi o se dite vabbè non voglio stare lì a smenarmi a cambiare così vabbè fatelo ok secondo me è onesto il prezzo perché andiamo a fare due calcoli questa offerta qua è a 50 giga al mese 10 euro giusto bene quindi come se fossero sei mesi inclusi quindi 60 euro di intere quindi router all'incirco perché resta 40 euro all'incirca secondo i calcoli di poste immobile poi in realtà se facciamo due calcoli quanto costa un'offerta da 50 giga in realtà stiamo sui quanto 7 euro quindi in realtà non sarebbero tutti quei soldi però rapportato l'offerta che offre poste ci può anche stare dai a fine conti il suo prezzo strutturato nei 50 euro 40 50 dipende soltanto scontato norma quindi comunque la fine dei conti non è male dai ecco questa è la prima che volevo farvi vedere è un voto e portate la portata dove volete basta connettersi termini condizioni vediamo se dice qualcosa ok una parte di coppa che riservate clienti private questo è un ufficio postale con una sim ricaricabile con 150 giga con te insieme a modem entro il giorno giugno salvo solamente scorte avete tempo fino a 19 giugno ma è da ben poco l'ho visto fuori comunque io l'attivazione sim gratuito l'offerta giga pack prevede al prezzo di 99 90 il modem 6 mesi dopo 150 giga come ho già detto in 4g non c'è scritto se va in a 150 megabyte o a 300 megabyte teoricamente 300 ok perché le poste non c'è scritto ma no eccolo qua eccolo qua c'è scritto qua la velocità massima di connessione è in 150 megabyte in 4c e in 3g fino a 42 megabyte non riesco a capire perché allora mi viene il dubbio di due robe ragazzi allora la prima è che non è stato aggiornato la brochure qua e quindi è rimasta quando posto dava ancora 150 megabyte perché sarà un anno c'è sto offerta insomma un annetto l'ho vista l'anno scorso in estate può essere quello oppure veramente limitato a 150 megabyte però pare abbastanza strano come vedete qui la velocità massima di connessione è 150 megabyte in 4g quindi niente 4g plus vabbè potete usare chiaramente per collegarvi e guardarvi giocare online bene con la il dio dipende dipende da dove siete si prende bene che gioco giocata su un gioco frenetico che ora vi collegate nel serie di cose questa è la prima che volevo andare a vedere insieme alla seconda e posta immobile a casa la posta immobile casa web lo guardiamo insieme che magari nel prossimo video guarderemo insieme gli altri offerti prossimo a casa questa la considero un po analogà a fine conti perché è trasportabile il router ok vi danno un router a 20 euro 20 euro 90 a mese a 300 megabyte servizio radio mobile così intende come il stesso discorso del router portatile solo questo lo collegato a corrente e non funziona senza corrente a meno che non avete voi power bank che ci hanno la presa a cima però se non avete quello comunque vediamo se c'è scritto meglio molto semplice che la stima è già dentro l'attaccata la spina e già lui fa il wifi lo stesso router che ho io grosso modo vabbè non è stesso modello ma sarà sempre dove questo va bene vediamo un attimo se riusciamo a capire non c'è l'immagine però come forse nei dettagli vedete il modo viene consegnato caratterimenti a casa e basta collegarlo alla presa corrente senso il vento di un tecnico che eratrice che modello fosse come dice ok 50 in upload 300 in download 2 portalan due antenne esterne supporto tutti i temporativi in modo ovunque basta collegare la presa di corrente e senza tecnica specializzata che vi daranno un supporto 7 giorni su 7 24 24 buono anche se i supporti al telefono poste mobile non sono proprio velocissimi mi pare abbastanza strano 7 7 hanno dalle anche tutti i giorni dalle sette a mezzanotte mi pare strano anche la domenica però c'è scritto c'è scritto termine condizioni vediamo se veramente limitato allora avete tempo e fino al 28 aprile è scontato che costa 20 20 90 posti 26 90 generalmente le poste immobili che i ragazzi non non fanno le modellazioni però qui c'è un discorso di giga illimitati però bisognerebbe capire se sono veramente limitati vorrei osservare insieme a voi costruito i corrispettivi saranno fatturati a intervalli bimestradi ovvero nei due mesi a mezzo conto telefonico e potranno essere debitati su conto corrente a seguito delle verifiche su una domiciliazione oppure pagate tramite bollettino postale l'imposto di bollo pari 16 euro saranno realizzate in otto fatture quindi per otto fatture ovvero sedici mesi perché la fattura ogni due mesi ok si si disse mesi giusto avrete la pagare 16 euro che sono due euro che a fine conto non è molto il modem wifi con c'è scomodato d'uso gratuito a cliente ha trovato un'attuale in caso di cessazione degli effetti vorrei stituire in 30 giorni dispositivo e fino ad ottimizzare l'utilizzo del servizio ok si la sim è inserita non c'è specificato informazioni tecniche forse qua io volevo vedere insieme ragazzi se c'era scritto o si accennavano anche solo anche se so che generalmente non accennano mai illimitato sapevoli diciamo che voi che in realtà non lo hai mai questo è sia un router ma un router con la sim adesso non so se si è realmente illimitato o no teoricamente sì però direbbe capire io condizioni generali di contratto forse quando troviamo vorrei andare a vederlo insieme che sapete che spulso sempre le offerte no vediamo io so che siamo a trovarlo capire se è veramente garanzia responsabilità forse qua il cliente prende atto che servizio erogato tecnicamente dalla società fornitore wool sales mai sentito wool sales che prima volta sento questa società qua magari dopo in un video andiamo a a trovare insieme se esiste la nostra wool sales e se magari fa offerte diverse io quello che vorrei capire i giga se sono veramente ragazzi illimitati uso corretto buona fede che dovrebbe essere qua ok cliente è tenuto utilizzare il servizio per un uso esclusivamente personale si va bene cliente si obbligo utilizzare la carta sim all'interno del terminale omologato quindi teoricamente voi non potreste prendere la sim e mettere nel router vostro solo in quel terminale però non lo so io non me non fermo stando quanto previsto il punto precedente evitata qualsiasi vita di rivendita cessione sì quindi non potete noleggiare il vostro gutare gli altri beh chiaro che metterà a disposizione clienti tra la scienza clienti parametri con il profilo standard allora eccolo qua non parla di giga ok ma dice qualsiasi uso non personale o inappropriato o informe dal servizio configurando l'adempimento del cliente con conseguente diritto della società alla risoluzione del rapporto contattuale secondo articolo fatto salvo raggiungere i danni sia che è questo non riesco a trovare a riguardo i gigabyte so che generalmente non ci sono mai ok se non riuscite a trovarlo me la riscrivete lo consulto perché vorrei capire anch'io anche perché magari se ne persone interessato vuoi farla almeno ecco sa anche qualcosa di più no ecco dai direi di non fermarsi più di così o che connettività per chi non sapesse fosse mobile allora al momento e wind i3 questa è una sim e quindi teoricamente non so se sia ancora sotto win 3 o è già sotto vodafone perché sapete che post immobile aveva detto che a marzo passava sotto la rete vodafone ancora adesso non si sa niente però è anche vero che la linea fissa di casa ha sempre usato vodafone quindi bisogna capire se sia già sotto rete vodafone questo ottimo o ancora wind 3 beh insomma che dire dire di salutarci qua spero il video vi sia piaciuto chiedo scusa se non sono riuscito a trovare i gigabyte il massimo dei gigabyte perché io sono convinto che non sia veramente limitato secondo me senza scaricare tante giga come magari vi arriva un messaggio e vi staccano la linea per un po è molto probabile non è detto ma sapete benissimo che voi tutte le linee con sim qualsiasi operatore però poi te la stacca però team almeno è l'unico momento che ho letto nelle condizioni che attuali c'è scritto il suo limite a 600 gigabyte almeno lui lo scrive almeno questo diciamo a tutti da andiamo a to team dai vabbè non facciamo pubblicità alla controparte direi di concludere qua salutarci sperare che il video vi è piaciuto se vi iscrivetevi al canale ci vediamo nel prossimo video lasciate un bel pollicino in su condividete il video con le persone se avete domande chiarimenti io sono qua volentieri vi rispondo e mi fa solo che piacere anzi fare quattro chiacchiere anche ok ragazzi buona serata guardatevi il video e spero insomma che vi sia piaciuto ciao ragazzi e a presto ciao ciao